A Temptation Island i giorni nel villaggio si fanno sempre più infuocati. E non solo per le coppie di fidanzati, Lino e Alessia su tutti, ma anche per i single e le single del programma. Come Maika, la tentatrice bionda cui si è avvicinato molto Lino. E beh, nella terza puntata gli si è rivoltata contro. Cosa è successo? L'ultima coppia di cui si è parlato durante la terza puntata del docu-reality è stata quella formata da Lino e Alessia. In un primo momento lei ha visto delle immagini in cui il compagno e la tentatrice Maika hanno legato molto, ma poco dopo la situazione è degenerata. Maika e Lino hanno avuto un forte litigio al quale anche le fidanzate hanno assistito ma ovviamente nel pinnetto. Mentre si trovavano tutti insieme, a un certo punto la tentatrice si è risentita del fatto di essere giudicata solo per la sua bellezza, vieni a farti un discorso con me e poi ti faccio vedere se c'è solo quello. E poi non è andato giù che le venga fatta la morale perché c'è stato un avvicinamento tra loro. Amore mio, io sono singolo e tu no, ha tuonato Maika, mi sono fatta il fidanzato che giudica, fidanzato con un'altra con l'amante dentro il villaggio. Follia ragazzi, follia. Lino basta, sta diventando una comica. Gioca con altre persone e non con me. Le sensazioni del CA. Che sentite le tieni per me. E ancora, non ti permettere di dire che io parlo con tutti allo stesso modo, quello fidanzato cui sei tu. Pensa alla tua distoria, non è me fare passare per quella che si innamora di tutti, ha concluso praticamente ammutolendo Lino. Dal pinnetto, le ragazze hanno visto tutto e hanno dedicato un applauso alla tentatrice di Lino, che dopo la sfuriata se ne è andata in camera.